Visto che non si riescono ad avere tante dosi quante se ne potrebbero somministrare, almeno occorre fare in modo che nemmeno una vada sprecata. E' seguendo questa filosofia che la campagna vaccinale toscana si arricchisce di un altro metodo di prenotazione che permetterà di recuperare tutti gli appuntamenti annullati. Entro la fine di questa settimana sarà attiva la prenotazione last minute per tutti coloro per i quali sono aperte le agende senza distinzione d'età, in questo momento dunque per tutti dai 40 anni in su. La modalità last minute prevede che ogni giorno sul portale regionale tra le 19 e le 20 si attivi un'apposita finestra che darà agli utenti la possibilità di prenotare la somministrazione entro le 24 ore successive, mettendo a disposizione le circa 100 dosi a livello regionale che quotidianamente vengono disdette con scarso preavviso. Chi accederà alla finestra last minute potrà scegliere il luogo dell'iniezione e anche il farmaco, ma ovviamente a seconda delle disponibilità. La prenotazione last minute potrà essere fatta per anticipare la somministrazione anche da chi ha già un appuntamento fissato e questo verrà automaticamente annullato senza bisogno di disdetta. Si tratta di una modalità diversa rispetto a quella delle riserve che resta in vigore e che invece è una sorta di lista d'attesa virtuale per essere chiamati quando ci sono dosi a disposizione in una precisa struttura di somministrazione. continuano nel frattempo per tutta la settimana e anche nella prossima gli open day, ovvero le giornate in cui ricevere la prima dose senza prenotarsi ma semplicemente presentandosi in un hub e da giugno partono anche le somministrazioni da medici di base odontoiatri e in farmacia. Insomma, l'obiettivo è chiaro, nemmeno una dose di vaccino anti-covid deve andare sprecata.